Un gol dell'attaccante Maurizio Nassi in estremis permette al Gela di pareggiare una partita che stava per premiare il Gregnano. Finisce 2-2 ed è un punto che robustisce la classifica dei biancazzurri ancora imbattuti in campionato. La cronaca della gara parte forte l'undici del tecnico Pietro Infantino. Un tiro da fuori aria di Schisciano chiama all'intervento il portiere campano Ferrara. Al dodicesimo arriva il gol gelese e un capolavoro firmato dall'Ucraino Kosovan direttamente su calcio di punizione. Il Gregnano però non ci sta e macina a gioco e bravo in più di un'occasione l'estremo difensore biancazzurro Saita a dire di no agli attacchi dei padroni di casa. Tre palle gol in pochi minuti sventate con bravura dal numero uno del Gela. Si va negli spogliatoi con i gelesi in vantaggio per 1-0. Nella ripresa al sedicesimo Montalbano potrebbe portare i suoi sul doppio vantaggio ma la sua conclusione viene salvata sulla linea di porta dal difensore Martone. Gol sbagliato, gol subito. È la legge del calcio. Cinque minuti dopo infatti arriva il pareggio campano. A realizzarlo è Santaniello 1-1. Il Gregnano resta in dieci per l'espulsione rimediata dalla Monica. Potrebbe essere l'occasione giusta per il Gela di andare alla ricerca del nuovo vantaggio ma è invece la formazione di casa che ribalta tutto. Al 31esimo su calcio di punizione Franco fa 2-1. Una doccia gelata per il team tanto caro al presidente Francesco Tuccio. Ma è scritto da qualche parte che questa partita non bisogna perderla. E così proprio all'ultimo assalto è il bomber Maurizio Nassi a mettere le cose a posto. 2-2 e tutti contenti. Il Gela è lì, nella zona alta della gradatoria con i suoi 9 punti. E domenica prossima al Vincenzo Presti c'è il big match con la capolista Igea Virtus. Per l'occasione la dirigenza Biancazzurra metterà a disposizione 200 biglietti settore curva a soli 2 euro. I biglietti possono essere acquistati fino a giovedì. Per informazioni contattare il 348 69 34 843. Ripetiamo 348 69 34 843. Due squadre che volevano vincere, due squadre che hanno lottato con grande dignità, con grande corsa, con grande voglia di fare risultato. Io mi preme di dire che vorrei ringraziare la società del Gragnano per l'ospitalità e per la signorilità che hanno avuto ai nostri confronti. Li ringraziamo, così smentiamo le tante chiacchiere che si dicono in giro che in Campania c'è scorrettezza e poca ospitalità. E io per questo la voglio sottolineare. Ringrazio di nuovo la società del Gragnano. La partita è stata bella. La gente che è venuta a vedersi la partita si è divertita perché due squadre che correvano, lottavano, volevano vincere. Noi dal 2-0 siamo passati al 2-1 perché credo che il loro capitano ha fatto la differenza in quell'episodio perché si sa, le partite si decidono in episodi. Noi abbiamo preso il 2-1 con un uomo a terra che abbiamo continuato l'azione e abbiamo preso il 2-1 anche se devo dire che il Gragnano non ha demeritato, anzi hanno lottato, hanno corso, volevano vincere. Non hanno dimostrato la classifica che hanno. Io l'avevo detto in settimana, l'avevo visto con la Leonzio. Tutte le partite sono difficili, gli avversari hanno tutti qualità. Il livello si è alzato, per questo mi preme di alloggiare i miei ragazzi perché oggi hanno fatto un grande risultato. Siamo passati dal 2-0 al 2-1, abbiamo fatto il 2-2 dimostrando che la mia squadra non molla mai. Questi ragazzi hanno cuore, ci tengono a questa maglia. Siamo partiti in un certo modo, oggi siamo soddisfatti perché abbiamo un cammino importante, affrontando squadre importanti perché io dico che il Gragnano si recupera tutti i giocatori che ha, è una signora squadra, io credo che alla lunga dirà la sua in questo campionato.